Hello guys, Randy Rana here e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, speriamo nell'ultima parte di questo sministamento cesta. Allora, mi sono portato un po' avanti, ho fatto delle stone gear e sono andato a raccogliere dei coloranti, perché ho visto che per il polymorphic serve il colorante arancione. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro colorante giallo e il nostro colorante rosso, ne facciamo un po', facciamo 10, dovrebbero bastare, ah no, ne servono molti di più. Perfetto, come ho detto, prendiamo così, lo facciamo imparare alla nostra tavoletta magica, ce lo scopiazziamo, perché siamo dei fighi quando scopiazziamo la roba. E quindi, quindi mettiamo uno così, mettiamo qui, ok, poi serve della redstone, le mettiamo qui, queste, e delle gear di ferro. Allora, abbiamo detto che polymorphic servono per la chest, quindi sono una, due, tre, quattro, cinque e sei. Allora, ne dobbiamo fare sei, servono sei rotelle, che vi ho detto che ho già fatto così, quindi facciamo sei, prendiamo il nostro bellissimo ferro e cerchiamo di farne il più possibile. Ma vi pare che io per così poco non riesco a fare una rotella? Dai, dai, bello mio, dai, ce la puoi fare, perfetto. Rotella, abbiamo le nostre sei rotelle, polymorphic items ink module, e sono quattro, perché non ce l'abbiamo fatta, che cosa è mancato, questo decisamente no, questo neanche, la redstone, ok, perfetto. Prendiamo della redstone, tanto ce ne abbiamo appalate proprio di redstone. Oh, allora, abbiamo detto quattro e sei, via. Fatti anche gli items ink, dobbiamo fare solamente i provider. Solamente, tra virgolette, solamente perché sono un macello. Allora, facciamo così, poi facciamo così, poi facciamo così, e poi ne servono sempre, quattro e abbiamo fatto di quei sei, perché servono sempre per la cesto. Quindi sei di queste le facciamo diventare di ferro, e non ci riusciamo perché non basta il ferro, ma guardate. Mi sa che mi toccherà vendere, ma non avevo ancora tungsteno, no, niente, è giusto, l'ho usato tutto prima per i miei scopiazzamenti vari di oro. Quindi, queste sei dobbiamo far diventare tutte e sei d'oro. Questa è un'ammazzata, questa è davvero un'ammazzata. Ma no, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sei, via. Abbiamo finito tutti i nostri sort. Allora, li prendiamo, scusate, tutti i nostri moduli. Li prendiamo, prendiamo la nostra ruencia. Allora, ricapitolando, nella cesta principale, che abbiamo detto che per ora sarà questa, poi la upgradiamo, ci va il quicksort. Quicksort, ok, non si può fare nulla, quicksort è l'items-ink. Items-ink lo dovremmo mettere così, se non ho sbaglio. Poi, questo se non mi sbaglio non serve, adesso vi faccio vedere il perché. Ci mettiamo un solo tubo di stone, così. Prendiamo la nostra ruencia. Abbiamo detto, nei macchinari vanno items-ink e extractor mk2. Quindi items-ink, perfetto, extractor mk2. L'extractor va su side. Allora, items-ink, extractor, mettiamo side, via. Poi, items-ink, extractor, side, ok. Items-ink, extractor, sempre side. E items-ink, extractor, side. Perfetto, allora, mettiamo un attimo di ordine. Ci sono rimasti i 6 polymorphic e i 6 provider che vanno nelle nostre chest. Allora, facciamo così. Prendiamo la nostra wrench, mettiamo il polymorphic, che se non mi sbaglio non si può fare nulla, e il provider. Qui dobbiamo mettere leave one item for stack, se non mi sbaglio. In maniera tale che lasciamo un item per ogni stack. Così abbiamo, praticamente, il, il, cosa abbiamo così? Ah, così non rischiamo che i nostri item se ne vadano a fare in QLM. In QLM, perfetto. Se avete capito bene, se non avete capito, magne. Ma, sinceramente, ragazzi, non posso mettermi qui a, a dirvi tutto. Allora, allora, no. In pratica, in quel modo, non facciamo sì che rimanga sempre un item, eh? di una qualsiasi cosa nella nostra chest, se non sbaglio. Se invece sbaglio, correggetemi, perché tanto proveremo adesso se funziona o meno. Allora, un item per stack, no. Un item per stack, ok. Allora, adesso, io ho delle cose da macerare, sicuramente. Abbiamo della silver, silver e tin. Ok, allora, facciamo questa prova. Andiamo nel maceratore, andiamo nell'item sync. Ci mettiamo che tutte queste cose qui dovevano venire a macerare. Quindi, se lo faccio così, adesso in teoria se li dovrebbero richiamare. Se li dovrebbero richiamare. Se li dovrebbero richiamare. No, fermi un attimo. Da qui se li dovrebbero richiamare. Vediamo. E non parte. Perché non? Fermi, fermi. Sto andando di qua. Tornando indietro. Vediamo. È perché... Ho fatto un sistema un po' di cazzo. Quindi potrebbe essere che vanno prima di là e poi di qua. Vediamo. Dovrebbero salire. In teoria no. Vanno di qua. No. Ok, li fa scendere. Sali. Perché non sali qua? Ok, salgono. E vanno a macerare. Oh, perfetto. Poi prendiamo la nostra silver dust. Mettiamo che va nella nostra fornace. Cioè, diciamo così. No. Item sink. Silver dust. Via. Quindi, vedete? Inizia già a macerare, a cuocere. Mettiamo la nostra silver dust di qui. La mettiamo anche di qui. Oh, perfetto. Poi. Il silver parte e torna direttamente nella sua chest. Perché ce l'abbiamo già. Vedete? Ecco qui. Quindi. Il nostro sistema è fatto un po' alla cazzo. Però funziona. Quindi, possiamo essere felici di tutto ciò. Finalmente abbiamo fatto anche questo benedetto smistamento cesto. Che in effetti serviva. Ormai era diventato abbastanza fondamentale. Allora, qua abbiamo del copper. Qua abbiamo del ferro. Quindi in teoria se adesso io faccio così. No. Scusate. Maceratore. Copper. No. Item sink. Ok, ferro. E copper. Quelli dovrebbero partire. Ah. Mmm. Perché è successo questo? Perché il nostro maceratore è pieno. Eh, ma non deve succedere. No. Vai. Il maceratore è vuoto. Mmm. Mmm. Allora. Ma questi li mettiamo qui. Perché è il primo. È la prima. Anzi, va bene. Ne mettiamo una a stack. Tanto adesso vanno abbastanza velocemente tutti. Eh, perfetto. La tin dust la mettiamo tra le cose che devono essere cotte. Tin dust. Perfetto. Adesso vi faccio vedere. Quella è piena e ogni non parte. Però con questa andrà subito. Eccola qui. Stessa cosa per di qua. Perfetto. Come potete vedere iniziano già a funzionare questi macchinari. Eh, non... Se avrò dei problemi poi, semmai cerco di risolvere a telegare me e respente. Perché ragazzi, lo sapete, io non sono esperto di Minecraft. Ehm... Potrei far venire un video lunghissimo e noiosissimo. E non è proprio quello che voglio. Lo sapete. Cerco sempre di divertirvi. Anche quando ho la febbre. Eh, spero che, eh, tutto questo lavoro, questo sforzo, forzo, 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 dannazione. Ok? Da parte mia sia, ehm, ben visto da voi. Perché ovviamente, ehm, vi assicuro che dietro il mio canale di YouTube, ehm, c'è tanto, tanto lavoro da parte mia. E la maggiore soddisfazione è sapere che siete felici e contenti quando arrivano dei miei video. Ok, ok, ok. Abbiamo sistemato il pavimento. E qui sta funzionando tutto. Qui anche sta andando la team dust. Pian piano dovrò aggiungere, eh, allora, la silver dust per dire qui. Adesso voglio capire un attimo se queste cose partiranno oppure no. Questi, questi iron. Perché in teoria, in teoria, ehm, io ho una mezza idea. Quasi quasi. Mettiamo quella roba del query. Che la cesta del query sia la cesta principale. Perché penso che sia quello che più ci conviene. Adesso vediamo un attimo, eh, vediamo un attimino. Qua, intanto funziona tutto. Qui che roba è? Qui cosa sto cucinando? La team che abbiamo nelle ceste, quindi va. La silver che abbiamo nella cesta, quindi va. Qui pure sempre team e va. Adesso, vedete qua, se aspettiamo, della team dovrebbe arrivare, in teoria. Dai, dai, ok, vedete, la team arriva piano piano comunque. L'importante è che a me non interessa che siano ultra veloci, l'importante è che li fa. Perché così, quando ricopriamo le cose in miniera, le abbiamo. Allora, prendiamo l'oro, le mettiamo qui. Quindi, adesso, facciamo così. Spostiamo le cose della cesta principale. Quicksort e item sink. Li spostiamo, sì, ma di qua. Muoviti, fammi salire. Ok, quindi prendiamo la nostra ruencola. Ci prendiamo a polimorphic e il provider. Mettiamo item sink e quicksort. Perfetto. A questo punto, da qui, dovrebbero poi partire le nostre cose. Le nostre cose. No. Dannazione. Perché sbaglio sempre? Ok. Ok, ok. Ta, ta. Ta. Qui erano solo i tubi, in teoria. Adesso, adesso, voglio fare una prova. Se io metto del ferro... Dove è andata la cobblestone? Dov'è che era tutta l'altra cobblestone, ragazzi? Era qui. C'era della cobblestone qui. Ok. Mi sa che dobbiamo fare un upgrade per la cobblestone, però... Questa... Perché ovviamente adesso questa qua non possiamo più utilizzarla come... Ehm... Chest... Come chest di... Ehm... Di scarto. Allora, facciamo così. Facciamo così. Allora, ci facciamo un upgrade da ferro ad oro. Quindi... No. Sì. Ok. Facciamo così. Perfetto. È così. Perfetto. Andiamo qui. Corri, 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 corri. Via. Adesso c'è lo spazio per rimandarci tutte le cosine. Qua sotto non abbiamo messo i moduli. Mi sa. Revenge, infatti... Non abbiamo messo i nostri moduli. Provider e Polymorphic. Via. Via. Ok. Adesso è tutto a posto. Qui abbiamo la nostra bellissima chest dove arriveranno le cose da query e si smisteranno. E andranno anche a cuocere. Adesso mi sistemo io un pochino... E tutte le cose nelle chest per farlo funzionare al meglio. Qui abbiamo questa cosa... Ah, perché... Perché la Copper Dust non l'ho aggiunta. Adesso la aggiungiamo, poi chiudo il video. Quindi facciamo così. Copper Dust. Via. Poi facciamo così. Item Sync. Copper Dust. Via. Item Sync. Copper Dust. Stessa cosa, avete visto, è arrivata la Copper e l'Iron che erano nella chest del query. Facciamo così. Così. E... No, no, no. Così. Perfetto. Adesso vi faccio vedere che se andiamo qui e ci mettiamo tutte queste roba qui. Poi mettiamo i nostri diamanti, ne mettiamo uno qui. Poi mettiamo i nostri tubi, ne mettiamo uno qui. Uno qui, è solo questo ciò, è uno qui. Ci mettiamo anche le Stone Gear, ne mettiamo una. Vi faccio vedere che se mettiamo tutta questa roba qui, inizia a partire e va che è una bellezza. Adesso dovrebbe andare tutto. Perfetto, guys. Allora, alla prossima puntata. Qua abbiamo fatto il nostro smistamento a chest. Finalmente funziona, sono felice. E noi ci vediamo nel prossimo episodio in cui cercherò di inventarmi qualcos'altro da fare. Enjoy. E che l'arena sia con voi. Bye. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.